Il viaggio di Paese Mio è tornato in Valdivara. Siamo nella media Valdivara e andremo a visitare alcune frazioni del comune di Carro. Partiamo in questo nostro itinerario da Castello, una località che ci richiama anche una figura sacerdotale importante anche legata alla diocesi di Chiavari, ovvero quella di Don Luigi Lavagnino che è stato parroco in questa comunità per oltre 60 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo il nostro percorso nella frazione di Castello dalla chiesa parrocchiale che è intitolata a San Giorgio. Siamo con Giancarlo Gotelli che è un fabbricere a lungo collaboratore di Don Luigi Lavagnino che è stato un po' il vostro parroco del cuore perché è stato qua tanti anni. Tantissimi anni dal 1947 all'anno scorso. Io sono stato, ho fatto la prima comunione con Don Luigi Lavagnino, la cresima, il matrimonio, addirittura Don Luigi Lavagnino è venuto a finale licore dove siamo sposati a fare il nostro matrimonio. Abbiamo fatto i 25 anni qua dentro sempre con Don Luigi Lavagnino, i miei genitori hanno fatto 25, 50, 60 anni con Don Luigi Lavagnino. Purtroppo è mancato, è un problema che si pesa molto perché sta cambiando tutto anche a livello così di riti. Essendoci solamente un prete che fa 4-5 parrocchie non c'è più quelle cose che venivano fatte, le novene in memoria di San Giovanni Battista veniva fatta una novena di 9 giorni alla sera. Sono perse come si è persa quando ci sarà San Rocco, la Madonna dell'Assunto, la Madonna delle Carmine. Quali sono un po' le feste tradizionali qua del paese? La festa tradizionale, certo, la festa tradizionale purtroppo abbiamo dovuto essere dimensionate tutte. Tra l'altro Don Luigi abitava proprio qua vicino alla chiesa? Certo, abitava vicino alla chiesa, è stata per noi una perda, però insomma 100 anni, lo siamo goduti lo stesso. La comunità si raduna ancora comunque dei suoi momenti di vita comune? Certo, certo. Ieri per dire la festa di San Giovanni Battista non abbiamo potuto fare la processione perché non c'era persone che potevano portarlo fuori, ma c'erano una quarantina di persone qua. Cioè quando ci sono delle feste siamo tutti radunati, tutti intorno alla chiesa. È un po' un posto di ritrovo per tutte quelle persone che sono nate o sono ritornate a castello. Questa chiesa è tuttavia molto curata anche nei suoi arredi e anche in alcuni dipinti, in alcune statue che sono costruite qua e che avete fatto anche restaurare. Certo, abbiamo fatto restaurare il Trapasso di San Giuseppe e la crocefissione l'anno scorso dalle belle arti di Genova. Il Cristo, che non so se l'abbiamo già visto, è stato restaurato da quattro nipoti perché era in condizione piettosa realmente. Abbiamo fatto restaurare recentemente la pecorella che era lì, che era senza una gamba, l'abbiamo fatto restaurare. Che fa parte della Stato di San Giovanni Battista. Fa parte della Stato di San Giovanni Battista. Lassù c'è il cane di San Rocco che dovrebbe essere restaurato perché il pane che ha in bocca è stato tutto mangiato dalle tarme. Per cui problemi ce ne sono a un'infinita. L'unica cosa che a noi qua manca è l'organo. L'organo era suonato dal maestro Mainardi che poi ogni anno a luglio faceva un concerto di musica lirica qua dentro. Ci manca perché è un organo bellissimo, stupendo, almeno tutti quanti dicono che è un organo stupendo. Purtroppo non c'è più nessuno che lo suona. Durante la festività dell'assunta vengono due ragazze e due fratelli a suonarlo. Ma da resto... Però anche questo attaccamento, anche questo impegno economici, sono impegni economici da poco, i restauri, segnalano un'avvicinanza comunque alla chiesa, alla parrocchia. Nel 2005 è stato rifatto il tetto. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare a questa spesa e abbiamo racimolato 90 milioni delle vecchie lire. Adesso recentemente, tre anni fa, abbiamo fatto il campanile perché era pericolante. La facciata della chiesa e il sottoscritto, assieme con gli altri fabbricieri, abbiamo raccolto 113 mila euro. Sono stati sufficienti, diciamo, a completare e a pagare tutte le spese. Si è aiutato, oltre alla popolazione, il comune di Carro, la comunità montana, la Cassa dei risparmi di Genova e Imperia e cosa che noi siamo rimasti realmente meravigliati è stata la Banca San Paolo di Torino, fondazione, che ci ha mandato 30 mila euro, che non ci speravamo più. Comunque... Mantenere il meglio possibile, però certi problemi ce ne sono. è piovuto, un danno enorme che ci ha creato, c'è una spaccatura di là, dovuta, non si sa che cosa. Problemi ce ne sono, però la popolazione è sempre di meno. E anche a cercare, questa gente che ha una pensione minima, per cui può dare 50 euro, 100 euro, non di più. Proprio vicino alla chiesa di San Giorgio si trovano questi due volti apotropaici che sono un po' la caratteristica anche che si riscontra in diverse località della vallata. Ma qual è la storia di questi due volti? La storia che è sempre stata raccontata è che qualsiasi persona che fosse stata ricercata dalla legge se riusciva ad arrivare qua sotto non potevano più farci nulla. Ed era vero? Questo è sempre stato raccontato, io lo racconto, non so se era vero, però la storia è così. Passeggiando nei caruggi di Castello ci sono diversi edifici che hanno anche una loro storia, in particolare quello che abbiamo qua alle nostre spalle. Che storia ha? Questa storia è una storia di una delle famiglie nobili del paese. Negli anni Novecento a Castello c'erano tre o quattro famiglie, i Gianelli, i Paganini e i Mastodante e i Rebizzo, che sono quelli che avevano in quella casa lì, che erano quelli che in pratica avevano in mano tutto il paese, a livello di coltivazione, di campi, di boschi, di tutto. Questo è un palazzo bellissimo dove sono stati fatti matrimoni, feste e tutto, perché c'è un salone stupendo, meraviglioso, del 1750, come potete vedere. Lassù c'erano tre stati che purtroppo in una notte le hanno rubate assieme a quella Madonna lassù, che adesso... L'unica che non le hanno rubate è quella là, perché è messa con un sistema che non è possibile. Don Luigi Lavagnino, oltre a essere stato parroco di Castello per oltre 60 anni, ha anche vissuto in questa frazione. Castello era una delle parrocchie che erano affidate a Don Luigi Lavagnino? Sì, allora era una parrocchia sola, perché è insieme ad Agnola. Poi si è aggiunto la pera e poi... Salino, insomma. Don Luigi Lavagnino andava a Salino, faceva chiama, la parrocchia di chiama, insomma faceva, andava da tutte le parti, si trovava da tutte le parti con la macchina. E qui ha vissuto praticamente sino... Nel 1947 a 2014, insieme prima con la mamma, poi con la sorella, poi con le nipoti e... La Canonica. La Canonica. Adesso è stata chiusa perché la nipote si è trasferita nella sua casa in cima al paese. Per cui adesso abbiamo un problema, che abbiamo solamente l'archivio storico della parrocchia e la casa è vuota. La casa è vuota, però questo edificio, oltre ad aver ospitato per tanti anni Don Luigi Lavagnino e la sua famiglia, ha anche una storia legata al Santo Antonio Gianelli. Santo Antonio Maria Gianelli, sì, perché da bambino veniva a scuola dal parroco di allora che... non so, non mi ricordo come si chiamava, ma insomma veniva questa... è venuto a far... Qui è venuta fin tanto, a scuola è venuta fin tanto che una signora, una signora, credo della famiglia Paganini, visto che questo ragazzo era così intelligente e tutto, l'ha pagato tutto e l'ha portato a studiare a Chiavari. A Castello c'era anche un oratorio, intitolato a qualche santo particolare? Sì, la Madonna Assunta, Madonna Assunta. Qui venivano fatti a suo tempo, quando è venuto prima Don Nando, prima del Don Lavagnino c'era Don Nando, qui era diventato una sala cinematografica e in più venivano fatte delle recite, che allora c'era tanta gente, per cui venivano fatte. Adesso ce l'ha la confraternita dell'Assunta. Però la storia è legata a questo, a questo vuoto qua. Qua si racconta, ed è vero, qua venivano buttati i morti da sopra della peste. E' stato sempre raccontato per vero che era stata buttata dentro una ragazza, che però non era morta, e alla notte hanno sentito gridare, perché qui si abitava un dottore, hanno tolto il coperchio, e non aveva più nemmeno delle unghie, da tanto che aveva gridato e grattato. Per cercare di uscire. Qui venivano buttati tutti quelli all'ora della peste, poi è stato fatto, adesso è stato modificato. Ora non viene più utilizzato questo oratorio? No, viene utilizzato una volta all'anno per l'Assunta, viene detta la messa qua dentro, e poi con la processione si va alla chiesa. Una delle realtà associative e aggregative della frazione di Castello è il Circolo Acli. Noi siamo proprio all'interno di quello che è un po' un luogo di ritrovo per chi abita da queste zone. L'unico luogo di ritrovo che raccoglie quelle poche persone ormai che ci sono. Qui vengono fatte anche delle mangiate, e ogni tanto al 24 d'aprile c'è la festa di San Giorgio, per cui qua si bala anche. Insomma è l'unico luogo di ritrovo che è rimasto, tutti gli altri non sono stati chiusi. Perciò per noi è importantissimo questo posto qua. Anche un servizio per la popolazione locale, visto che c'è anche un piccolo dispaccio di alimentari, il bar. Dopo che è stato chiuso nel 2014 l'unico negozio di commestibili che c'era a Castello, per fortuna è stato messo qua, perché dunque gli 80 persone anziane che sono qua sarebbe stato un dramma per tutto. Più o meno quanti sono gli abitanti qua della frazione? Qui noi siamo 88-89 residenti, poi logico nel periodo estivo, o anche sabato e domenica arrivano tante persone, ci sono tante persone, però una volta eravamo 750, oggi siamo 89-87 secondi. Adesso ne sono arrivati altri tre abitanti qua, per cui saremo sugli 90 persone. Quali sono i servizi che ancora rimangono? Questo è un servizio, poi alla fine... Un servizio? Nessun altro. Bisogna scendere dove? Sesta Godano, Abbrugnato, Sesta Levante. Poi è caro, logicamente, c'è il comune, c'è la posta, importante anche quella, ma altre cose non ce ne sono. Una delle realtà della frazione di Castello di Carro è l'hotel Naturam, che è gestito da Micaela Previato, insieme a suo marito, e che sono qua da circa... Un anno. Sì. Quindi voi avete deciso comunque di investire su questo territorio, anche se è un territorio che ha, diciamo così, due valenze, una estiva e una invernale, in cui verosimilmente si spopola. Sì, decisamente si spopola d'inverno, e poi d'estate si riempie dai genovesi che tornano nelle case di famiglia, oppure dagli stranieri che vengono in vacanza. fare passeggiate, andare nelle Cinque Terre. Com'è stato questo anno? Beh, è stato impegnativo, perché è stato il primo anno che devi imparare a conoscere le realtà esistenti qua, sia le altre attività, che le persone, che l'ambiente, però, insomma, poi ci si ambienta. Si inizia a imparare un po' di dialetto, poco, ma qualcosa si capisce. Per voi che non siete qua, originali di questa zona, che cos'è che vi ha colpito, o vi ha fatto in qualche modo anche innamorare di questo ambiente, di questa località? Beh, la località è bella, perché è bella la natura. Sono belli i paesaggi, sono belli i tramonti, e si sta molto bene. Arrivando comunque da fuori, scopri una realtà diversa, dove senti i caprioli, che cantano, gli animali, gli uccelli, insomma, è completamente diverso da stare in città. per cui ti innamori del posto, e dici, è bello, proviamo a cambiare vita. Ecco, un punto anche strategico questo, per la vicinanza alle Cinque Terre. Sì, esatto, è strategico, perché con mezz'ora di strada in macchina, arrivi a Levanto, a Deiva, e da lì poi prendi il treno, e vai alle Cinque Terre. E comunque, diminuisci i costi, per quello che riguarda, per notamente colazione. Tanti fanno così per quello, e vanno alle Cinque Terre. Poi è strategico per chi vuole visitare anche i paesi dell'entroterra, che sia Varese Ligure, Brugnato, Carro, Castello, insomma, tutte le realtà che ci sono nell'entroterra. Sono località apprezzate più dagli stranieri o dagli italiani? Allora, l'entroterra, secondo me, è più apprezzato, in linea di massima, dagli stranieri, soprattutto Nord Europa. Per quello che riguarda, l'italiano, tende più ad andare verso il mare. Poi, se gli dai le indicazioni, anche magari vanno a vedere i paesi qua vicino, però mirano più al mare che all'entroterra. Voi quanti posti avete in questa struttura? Allora, noi abbiamo otto camere, di cui una singola, e le altre sono tutte matrimoniali, diciamo un 18, in complessivo. E avete qualche caratteristica peculiare, non so, della cucina, o comunque qualche proposta peculiare che fate ai vostri clienti? Noi caratteristiche peculiari, diciamo che facciamo sempre, spesso cose diverse, tendiamo, per dire, a fare i ravioli, quelli sempre, o la pasta fresca, tendiamo sempre a farla. Cose come il pane, i grissini, le torte, cioè, più riusciamo a fare noi, meglio è. Io credo che questa sia la nostra caratteristica peculiare, fondamentalmente, di divertirci, anche a provare nuove cose, a inventarci qualcosa, insomma, oltre ai classici, appunto, le torte salate, i ravioli, il coniglio, però siamo abbastanza eclettici. Soddisfatta di questa scelta? Sì, soddisfatta, perché alla fine è una scelta che hai ragionato, ponderato, e per il momento siamo soddisfatti, insomma, lanciati in questa avventura. Difficile, però lanciati. La signora Ornella Machiavello, che avevamo già conosciuto a carro, è comunque appassionata, legata a queste frazioni del comune, Abbiamo scoperto che c'erano delle famiglie importanti in questo territorio, una in particolare, lei voleva ricordare? Da manoscritti, ho visto che la famiglia Barbieri di Genova è venuta ad abitare a Castello, di fatti c'era il dottore di Castello proprio, che si chiamava Domenico Barbieri. Sua figlia Caterina, andò in sposa al marchese Stefano Giustiniani di Sarzana, dunque si unirono due famiglie molto importanti, che verso la fine dell'Ottocento, l'Ottocento, erano padroni di tante terre, tante case, e avevano sotto di loro tanti mezzati. We still sit at separate tables, and we sleep at different times, and the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. Superato il Valle Codimola, si apre questo scorcio panoramico. Quali sono i panorami che si possono ammirare da questo percorso stradale? Dunque, c'è una valle bellissima, che al mattino presto ci sono dei colori fantastici. Si vede alcune frazioni di carro, tra cui si vedono, quando non c'è foschia, anche le Alpi Appuane. e queste si vedono specialmente d'inverno e sono bellissime. Poi vediamo in uno scorcio anche le antenne. Quelle antenne lassù è un monte San Nicolau, nel Medioevo era chiamato Punta Colice. Lassù c'era un tempo una torre di avvestamento, nel 1200, proprio perché c'è una vista veramente che spazia a 360 gradi. Possiamo vedere il Gottero, possiamo vedere il mare, delle belle giornate della Corsica, Portofino e anche il Zatte. Dunque c'è una vista meravigliosa. E da lassù, nel Medioevo, tenevano sotto controllo tutta questa zona qui. Nel 1200, qui a Carro, c'erano i signori da Passano. Di conseguenza, poi nel 1171, cosa fecero? Si allearono con Genova. Di conseguenza, i carresi, gli uomini di Passano, potevano commerciare con Genova, potevano portare là le loro merci, specialmente il vino. Ecco, volevo dire una cosa, che forse tutti non sanno. Tutte le chiesette della valle, che sono Carro, siamo le tue dipendenze. E per te ci si. frizzare la vita, frizzare la vita, frizzare la vita, E per te ci si. Ci siamo spostati da Castello a Pavareto, un'altra frazione del comune di Carro, dove troviamo alcune attività legate ancora alla coltivazione della terra. In particolare siamo nell'azienda agricola Caduchitto, che prende il nome proprio dalla casa, che era abitata un tempo, e siamo insieme a Mattia Nardi, che fa parte della famiglia che gestisce questa azienda. Azienda che è sul territorio da quanti anni? Dal 1995 ci siamo trasferiti qui, abbiamo ricostruito, ristrutturato e ampliato l'azienda. Abbiamo aperto nel 2001 con le nostre camere, con il ristorante, con la parte degli appartamenti e del campeggio, e tuttora produciamo verdura, frutta, abbiamo un bellissimo frutteto di antiche varietà, un meletto sperimentale che è iniziato tanti anni fa con l'aiuto della regione Liguria, con il dottor Andrea Galli, che ci ha aiutato moltissimo, e con queste mele facciamo dell'ottima marmellata con la buccia, oppure abbiamo un rosetto di rose da sciroppo, con il quale facciamo lo sciroppo, oppure le marmellate. È un'attività che si divide tra coltivazione e trasformazione del prodotto della terra, e dall'altro lato anche ricezione, ricettività. E certo, il fulcro di questa cosa è l'azienda agricola, che produce le materie prime per il ristorante e per quello che serviamo ai nostri ospiti. Voi non siete originari di queste località? Noi siamo genovesi, i miei genitori si sono trasferiti dalla città, sono impazziti nel periodo che non volevano proprio stare in città, e sono venuti qua e hanno iniziato a fare i contadini. Come vi siete trovati qua? È una vita sicuramente molto diversa da quella che si può fare in una città come Genova? È molto, 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 molto faticosa, però regala tantissime soddisfazioni, e soprattutto se è a contatto con la natura, con gli animali, abbiamo i maiali di cinta senese, le galline, i conigli, i tacchini, oche, faraone, ed è tutto poi dedito alla ristorazione. Come si suddivide l'attività nell'arco dell'anno? C'è una fase più dedicata alla coltivazione della terra, una fase più dedicata alla ricettività, o in qualche modo si compensano vicendevolmente? Tutto l'anno si compensano moltissimo, perché d'inverno bisogna fare le preparazioni per la stagione estiva, che è poi quella in cui abbiamo la maggior parte degli ospiti, però il lavoro è tutto l'anno, dalla primavera in cui bisogna seminare, l'estate in cui bisogna raccogliere, l'autunno in cui bisogna mettere a posto, tagliare l'erba, organizzare tutto, le potature, è tutto un continuo che si sussegue ogni anno, adesso siamo dietro a tagliare l'erba su tutti i frutteti, stiamo mettendo a posto, stiamo lavorando gli alberi per fare in modo che abbiano una maggiore produzione, gli stiamo dando da bere, è un continuo. Sono zone frequentate queste da turisti, da villeggiare? Sì, dalle persone che amano la tranquillità, dalle persone che cercano un posto tranquillo, cercano una dimensione più fresca, dove d'estate si riesce a stare al mare tutto il giorno e poi la sera si torna a dormire qua con il fresco, con le lucciole e con la tranquillità. Cosa è ancora un presidio Slow Food? Eh sì, collaboriamo con Slow Food da diversi anni, siamo un'osteria d'Italia e proprio per il meletto che raccontavo prima abbiamo vinto un premio per la biodiversità dall'Agritour di Arezzo e ci siamo distinti per questa cosa che ci dà molta soddisfazione. Tu hai seguito un po' le orme dei genitori, hai condiviso questa scelta anche coraggiosa? Da sempre, sono dietro a fare queste cose, ho studiato un po' di università, ho fatto filosofia a Genova, però poi sono tornato alle origini, mi mancavano i trattori e tutta la vita agreste. In quanti siete a mandare avanti l'azienda? Siamo io, i miei genitori, c'è anche la mia fidanzata e poi abbiamo un po' di aiuti che ci vengono ad aiutare nei momenti più importanti. Una delle caratteristiche particolari di Pavareto è costituita dalla Casa di Paglia. Ci facciamo spiegare da Francesca Boreanaz, che insieme al marito Marco Altaghi ha messo su questa azienda agricola da dove è partita questa idea particolare. Questa si chiama Casa di Paglia perché è effettivamente una casa realizzata con la paglia. Allora, il nome dell'agriturismo è Il Filo di Paglia, in onore di Masanobu Fukuoca, che era un giapponese che ha lavorato nell'agricoltura naturale tutta la sua vita. E un veterinario, tanti anni fa, mi aveva regalato questo libro meraviglioso avvicinandomi all'agricoltura naturale. È diventato poi un filo conduttore perché alla fine abbiamo pure costruito questa casa in balle di paglia, realmente, perché mi sono trovata a dover costruire un edificio nuovo che la casa del mio bisnonno che aveva costruito nel 1923 qui a Pavareto non potevo trasformare in agriturismo e quindi mi veniva male l'idea di costruire e cementificare ulteriormente. Allora ho detto, vabbè, se una casa nuova dovrà essere deve nascere che sia almeno a minore impatto ambientale possibile. E il giorno che nessuno più li vorrà bene tornerà alla terra, si ricomporrà, rimarrà un quintale di ferramenta perché un po' di viti ci sono per legare questa struttura in legno ma le balle di paglia torneranno nella terra e la calce, la terra cruda. Materialmente le pareti sono di paglia però sono intonacate... La struttura portante è in legno sono 16 pilastri di legno e dei travicelli in corrispondenza di porte e finestre e in mezzo ci sono queste balle di paglia compresse ogni due poi bloccate con dei legni all'esterno è intonicata con la vecchia calce naturale il grassello che si usava fino agli anni 50 che si produceva nelle calcinare qui nei boschi eccetera che poi è andato in disuso utilizzando semi lavorati e cementi all'interno abbiamo fatto l'intonaci invece in terra cruda che è un materiale meraviglioso che assorbe l'umidità ionizza l'ambiente è molto benefica e crea un grandissimo comfort ed è una tecnica che si può anche applicare nelle case normali. Quanto tempo ci è voluto per realizzare questa casa? Allora due anni due anni e mezzo considerando anche l'interrato e lavorandoci noi tantissimo è stata un'esperienza fantastica anche perché sono mille metri quadri tra dentro e fuori di intonaci, di pareti e l'abbiamo dato in cinque strati ognuno quindi ogni passata di mano perché all'inizio bisogna spingere la malta nella paglia è veramente un'emozione impressa dentro questi centimetri quadrati di intonaco. Voi dopo aver realizzato la casa poi chiaramente siete venute ad abitarvi ma avete anche portato avanti un'attività legata alla terra. Sì, è tutto agricolo anche la casa non era previsto quando abbiamo lasciato il vecchio ristorante giù al mare era veramente esclusa la possibilità di aprire questo luogo segreto agli altri in realtà poi ci siamo resi conto che l'unico senso di questa realtà era se la condividevamo con gli altri tanto più che cerchiamo di portare avanti molte tematiche di ecologia infatti abbiamo fatto un impianto di termocompost applichiamo agricoltura sinergica sperimentiamo anche la biodinamica alleviamo animali in estinzione le mucche cabannine quando la volpe ci dà tregua anche un po' di galli neri dalla Val di Vara ma ancora l'altro ieri pomeriggio è venuto a prendersene un'altra dobbiamo rifare i recinti e niente tutto cercare di creare delle realtà diciamo in progetti di permacoltura dove si creano una più semplice autosostentamento un più semplice autosostentamento ecco il fatto che le attività tengono vive anche queste località che sarebbero se no poco densamente abitate assolutamente sì l'agriturismo direi tutte le persone che conosco che portano avanti agriturismi fanno un grande beneficio al territorio perché oltre a recuperare questi terreni abbandonati e amare come purtroppo la gente del luogo a volte non riesce ad apprezzare spesso fanno agricoltura biologica gli animali e l'impegno di gestirli anche con un supporto del turismo perché purtroppo queste realtà fossimo solo azienda agricola veramente non ce la farebbero stare nei prezzi la ricettività turistica la multifunzionalità ti permette di allevare gli animali anche se sono anti-economici vivere qui con tutto il disagio perché il cliente arriva qua il lavoro te lo porta qua cioè è un'opportunità veramente infatti il fatto che ci siano tanti giovani che si stanno avviando alle attività agricole mi fa veramente ben sperare di un recupero del territorio purtroppo i finanziamenti non sono così semplici da prendere e chi i giovani che si insediano nel territorio avrebbero bisogno veramente un anticipo sui soldi anche perché si sbaglia molto soprattutto chi non è esperto noi abbiamo fatto molti sbagli e quindi anche una parte di contributo a fondo perduto per i giovani va proprio per questi errori madornali che si vanno a fare voi siete soddisfatti comunque della scelta che avete fatto anche voi in qualche modo avete lasciato la città per una scelta anche un salto nel vuoto se vogliamo all'inizio non avevate idea della dimensione sì sì siamo soddisfattissimi c'è sempre molto lavoro da fare non ci si ferma mai non parliamo degli imprevisti di quando gli animali erano un po' di recinti vanno in giro di notte a luna cose del genere era abbastanza la nostra realtà preparata in 20-25 anni di progetto mentale venivamo già quando avevamo ristorante giù al mare venivamo su a coltivare un piccolo orto e portavamo le verdure giù facevamo avanti e indietro era un amore folle per questa terra non era scontato riuscire a realizzare questo progetto ecco e siamo molto contenti di esserci riusciti assolutamente come un po' di esserci riusciti come un po' di esserci riusciti come un po' di esserci riusciti ci facciamo raccontare alcuni brani di storia di Pavareto dal signor Gino Cafferata che è nato dove? sono nato qua anche se adesso viva Sestri però ritorna sempre qua una delle ragioni di sviluppo un po' di questa località è stata la realizzazione di alcune infrastrutture tipo la strada e la luce in che anni più o meno è arrivata la strada in queste zone? la strada è arrivata nel 1926 tramite la ditta alla zona di Massacarara che è quella che poi ha sfruttato il filone di marmo che c'era là nella cava il marmo era rosso levanto proprio l'hanno smesso perché aveva conteneva del ferro del manganese non teneva lucido quindi in queste zone ci sono anche delle cave più avanti? sì ce n'è una a fondo sarà circa due chilometri è una cava ancora attiva o è stata attiva fino a che anni? più o meno io ero ragazzo dei 1955 che cosa estraevano da quelle cave? marmo marmo poi all'ultimo tempo quando ho lavorato qua per ultimo estraevano sempre marmo però come delle pietre perché facevano la graniglia facevano le piastrelle quelle che ci usavano alla volta era una risorsa per questo territorio? è abbastanza ci lavorava 5 o 6 persone ci lavoravano di qua se no qua non c'era da fare niente che tipo di attività si faceva qua in questa frazione? mi fa come una cava poi piano piano è anche uno dei motivi per cui le persone sono scese in città siamo emigrati anche noi siamo emigrati però lei ci ritornava volentieri qua? certo ci sono nati mia madre mia sorella lei diceva che queste qua erano zone dove si praticava l'agricoltura ecco c'erano delle piantagioni o degli orti particolari che si coltivavano da queste parti? c'era il vino che era famoso il vino di Pavaretto poi c'era la qualità d'uva che adesso è sparita si chiamava Sagina faceva degli accini non neri chiari e veniva fuori un vino rosè però era buonissimo io me lo ricordo da ragazzino non lo ricordo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 che passava lassù sul monte di San Nicolao, passavano i pellegrini, i viandanti, e di conseguenza la prima chiesa è stata questa e ha messo il San Pellegrino. Alla sinistra dell'altare troviamo un'altra immagine di Santa, in questo caso chi è raffigurata? È raffigurata Santa Caterina da Genova, un bellissimo quadro, come sono bellissimi quei due candelabri lì. Poi abbiamo una cosa particolare, se vediamo il soffitto, vediamo un uomo col cappello nero piatto. Quello lì dovrebbe essere il notabile di Pavareto, i signori di Pavareto, i paveri, che sono qui da tantissimi anni, provengono dalla riviera di Ponente, erano i signori che praticamente si gestivano tutto il paese. Originario di Castello è anche il panettiere che con il suo forno a carro rifornisce un po' tutte le località del comune. Certo, rifornisce tutta la zona, si chiama Pietronave da Castello, viene qui a fare il pane e fa del pane molto particolare, il pane di carro che è famoso in tutta la valle e anche verso Casarza, Sestri, perché è molto conosciuto, perché fa veramente un pane particolare. E qui possiamo vedere una bella focaccia. Purtroppo oggi a quest'ora il negozio è chiuso e sono io a dirvi queste cose qui. È un servizio comunque per tutta questa zona, tutta questa località? Sì, per tutta questa località, ma anche trasporta verso Sestri, verso Casarza, giù per la Val di Vara. Quanti anni è che hai qua? Ma io con precisione non lo so, sarà 5-6 anni, però prima c'era un mio cugino che faceva il pane, era proprio di carro, un paganini, e le ha fatto per una vita. E poi ha rilevato la licenza a questo signore e ha continuato questa zona. Ci siamo trasferiti a Ziona, un'altra frazione del comune di Carro. Siamo nei pressi di un complesso sportivo dell'Associazione Sport di Lettanti Zona 2001, affiliata a UISP e abbiamo qua il presidente Enrico Paganini. Da quanto tempo, il nome stesso lo dice, però da quanto tempo siete in questa area? Sì, in questa area i lavori con la società rinnovata sono cominciati nel 2005. Che tipo di attività promuovete? Le attività ci sono un po' tutte quelle che ci sono, le bocce, il tennis, il calcio a 5, il ciclismo. E poi nella palestra facciamo pugilato, giovanile, amatoriale, agonistico, fiziones, ginnastica dolce per la terza età, danza. La palestra è aperta tutto l'anno, è una palestra di tipo piccola ma di tipo comprensoriale, non ce n'è altro in tutta la Valdivara. E quindi, diciamo, questo è il tipo di attività che sono complessissime, nelle quali ci vengono le scuole a fare attività motoria, io vado nelle scuole del comprensore a fare attività motoria di base per i ragazzi, sempre come FB in quanto tecnico federale abilitato a fare queste cose. Quindi, diciamo, questo centro qui, pur essendo in questa piccola frazione del Comune di Caro, è un centro di tipo comprensoriale. Ci siamo trasferiti nella palestra, che è un po' il fiore all'occhiello dell'Associazione Sportivo qua a Ziona 2001. Ecco, la vostra attività vera e propria, in che anno è iniziata? La nostra attività, diciamo, come società è cominciata nel 2005, però l'attività rinnovata, diciamo, è cominciata nel 2008. Dal 2008 a venire adesso abbiamo fatto, facendo tutti questi impianti che non esistevano, investimenti che sono stati fatti per 200 mila euro. La palestra, il centro Sagre sopra, poi la recinzione del campo sportivo nuova, la pavimentazione, tutte queste cose qui. Diciamo, di questa, la potremmo chiamare la palestra del volontariato questa, no? Perché di questo investimento 70 mila sono stati della regione e 90 mila sono stati del Comune di Carro e 40 mila dell'Associazione che vengono tutti dal volontariato, no? E quindi, diciamo, che la società a Ziona 2001 UISP, in collaborazione con la pugilistica di Varese Ligure, che elaboriamo un regime di gemelaggio, e abbiamo fatto questo sforzo enorme perché trovare dalle Sagre delle iniziative di autofinanziamento 40 mila euro e reinvestirli nella struttura, non nelle nostre attività, regalati quindi al Comune di Carro per farlo. La scelta è stata che siamo tutta gente a Piazza Nodi di qui. Aprire questa attività significa far vivere questi Paesi. Perché il bello di queste cose, col volontariato, con la partecipazione sociale, con questo alto spirito sociale di chi investe nel pubblico senza nulla chiedere. Noi gestiamo l'impianto, ma voglio dire, non abbiamo fatto nessun contratto con il Comune. Abbiamo dato 40 mila euro nelle strutture, poi abbiamo da gestire anche le nostre cose. Ci sembra che per questa gente, per questa... Di fatti i più anziani del Paese, qui sono tutti i tesserati, la società ha 160 soci, quindi nel Paese ce ne sono 60. Poi ne abbiamo a Milano, a Torino, a Genova. Però, diciamo, i vecchi del Paese soprattutto vengono nel bar perché è una cosa loro. Ci tengono, voglio dire, prendono il caffè, ti danno 5 euro perché sanno che vanno poi a essere spesi. E questo, secondo me, con persone... Io non sono più giovane perché sono diversamente giovane. Ma con quelli che mi hanno visto da bambino, che vengono e dicono è giusto fare così, è giusto che ci impegniamo tutti anche quasi a 90 anni, mi sembra, diciamo, per questa comunità una grande... Per me che seguo queste cose insieme agli altri collaboratori, siamo tutti allo stesso livello, con lo stesso impegno, è una soddisfazione morale enorme, no? Nel senso, sentire lo spirito... Vede, il nostro slogan, e poi la chiudiamo, è in quel manifesto che ho fatto là io. Ho messo, qui siamo, ASD-Ziona 2001, qui siamo cittadini del mondo, di nazionalità italiana, orgogliosamente di razza contadina. Questo rivendicare le origini e rifare le nostre manifestazioni, anche le sagre di otto finanziamento. Ne facciamo quattro d'estate per trovare i soldi, e lì ci impegniamo tutti, perché da queste feste nascono i soldi per investire nel Comune, per comprare le attrezzature. e saper creare questa passione, questo gruppo per partecipare, per me che qui ci sono nato, diciamo, e che sono affezionato alla mia cultura contadina, è una soddisfazione enorme. e che sono affezionato alla mia cultura, Siamo con Agnese Rebizzo, che ci illustra anche alcune peculiarità, non solo di questo impianto sportivo, ma vediamo che ci sono anche dei prodotti proprio della terra. Qua abbiamo del miele, da dove proviene? Sì, da due anni a questa parte abbiamo un signore di Framura, che ha deciso di mettere le sue api qui e di produrre qui il suo miele. Che miele è? È un miele di fiori misti, tipo questa acaccia, questo qui di castagno, miele proprio della zona. È buono? Sì, sì, molto. Ci siamo trasferiti su quella che possiamo un po' considerare, la piazza del paese di Ziona, proprio davanti alla chiesa intitolata al nome Santissimo di Maria. Siamo insieme a Giovanni Garivotti, che benché sia nato a Chiavari, però qua a Ziona ha sempre vissuto da diversi anni. Sì, praticamente da quando sono nato, poi per motivi di necessità di lavoro, eccetera, qua come tutti c'è la necessità di andare fuori, di andare a Genova, di lavorare fuori. Quindi, però, come tutti gli oriundi, praticamente nei fini settimana, o spesso, ritorniamo sempre qui. Quale storia possiamo raccontare relativamente a questa piazza e anche a questo edificio sacro? Praticamente questa è la piazza principale del paese e in origine c'era la fontana dalla quale si evidenzia la data dalla quale era portata l'acqua e che è la data del 1902 che era al centro di questa piazza che praticamente era luogo di ritrovo anche di tutti gli abitanti perché c'era la questione della festività e qui si riunivano praticamente tutti i più anziani anche perché la piazza era circondata da dei leci secolari che poi per motivi di sicurezza sono stati abbattuti negli ultimi qualche 15-20 anni fa per cui è la piazza un po' di ritrovo di tutto il paese e adesso è un pochettino in disordine ma l'amministrazione si è impegnata a rinnovarla e probabilmente sarà rinnovata con l'antico ciocottolato di fiume che si vede in piccole parti Lo vediamo affiorare, sì La chiesa è dedicata al nome Santissimo di Maria quali sono i momenti principali di vita anche di questa realtà parrocchiale? La chiesa praticamente è una chiesa che può essere l'inizio della chiesa con dimensioni ridotte intorno alla quale si è poi edificato il paese risale intorno al 1100-1200 poi negli anni successivi come tutte le cose è stata ingrandita e intorno al 1700 è stato costruito l'organo di fattura tipica fattura Ligure e è tuttora funzionante e poi la peculiarità è che intorno al 1830 è stato innalzato il campanile è stata ingrandita e è stato costruito con maestosità l'altare principale che sembra sia stato portato da Recco con quegli scambi che c'erano e quindi la chiesa è stata ingrandita compone appunto dell'altare principale dietro al quale c'è un tritico che è di notevole fattura sembra adattato intorno al 1500-1600 e ai lati ci sono altri due altari dedicati a San Giuseppe e alla destra quello della Madonna della Speranza della quale si festeggia è la ricorrenza principale del paese che si festeggia la prima domenica di luglio di tutti gli anni Questo edificio è risentito anche di alcune scosse sismiche che si sono verificate in questi ultimi anni e è stato consolidato anche nella sua struttura interna Esatto, grazie alla contribuzione ai fondi ottenuti i lavori sono stati ultimati due anni fa e è stato rinforzato mettendo dei rinforzi nelle navate laterali perché durante un terremoto di 3-4 anni, di 5 anni fa eccetera, aveva risentito e si sono create delle crepe in particolare nel campanile e quindi era ritenuto pericoloso è stato rinforzato e è stato ripristinato un pochettino quello che era l'antica solidità Com'è la vita qua del paese di Ziona? Durante, praticamente la vita è una vita tranquilla fatta prevalentemente di gente anziana perché i giovani sono costretti ad andare fuori e per la maggior parte dell'anno si ravviva durante l'estate in quanto durante l'estate ci sono praticamente gli oriundi che rientrano un po' di turismo è costruito un villaggio a vicino e quindi si riempie di gente e nonostante tutto questo ogni domenica c'è sempre il parroco che fa la funzione e quindi vuol dire che finché viene il prete a dire Bessa c'è vita perché vuol dire che gente se ne muove e quindi si tira avanti nonostante le difficoltà è sempre il meno numero di gente perché da più di 500 persone che potevano essere nel 1800 siamo ridotti a una 60-100 abitanti durante l'inverno che magari raddoppiano o triplicano d'estate però la vita è molto tranquilla infatti non si sente volare una mosca come si dice perché è tutto più che tranquillo ci stiamo addentrando all'interno del borgo di Ziona in questi caratteristici anche percorsi caruggi e possiamo notare alcune particolarità che ci richiamano anche la storia di questo paese in particolare perché ci siamo fermati davanti a questa porta a conferma a conferma diciamo dell'antichità e della vecchiaia del paese su alcuni portali come questo si può leggere la data 1783 o 85 che certifica diciamo l'originalità di un portale di pietra scolpita a mano pietre qua dei nostri territori o dintorni dove quando è stata messa sulla casa o perlomeno il portale perché la casa era molto precedente in quanto il paese risale a tempi ben anteriori però è stata incisa la data per certificare l'anzianità diciamo della struttura il centro storico è stato recuperato è stato tenuto è in buono stato diciamo conservazione abbastanza in buono stato e nonostante le difficoltà perché diciamo come si vede sono vie strette ci sono porticati probabilmente ha una struttura anche di fortificazione che andando indietro di 500 anni qua praticamente era un posto chiuso perché si vede anche una struttura molto concentrata che può per meglio difendersi da eventuali attacchi o difendersi meglio da eventuali incursioni è ancora abitato questo centro storico è ancora abitato perché sono state ristrutturate recuperate qui diciamo c'è la casa di Paganini che abbiamo sentito prima questa è la scala la volontà lasciare come era questa è la scala originale di quando è nato il paese fatta in pietra l'abbiamo lasciata così abbiamo appena un po' tappato qualcosa però è quella che è sempre esistita voglio dire quindi questa non si tocca si lascia così come queste pietre qui in fondo la poce sono quelle originarie di questo paese qui di questo paese è una scala di questo paese Passeggiando nei vicoli di Ziona abbiamo incontrato il signor Giuseppe Paganini, è un cognome di questa zona. Lei è nato e vissuto sempre qua a Ziona? Sempre qua a Ziona. Mi hanno detto che lei suonava le campane. Mi dicono che lei avesse una tecnica particolare per suonare le campane. Ci avevamo due catene attaccate da una parte dall'altra, incrociate, una catena da un piede dall'altra e con le mani, quattro campane così. Ci sono quattro campane sul campanile qua? Quattro solamente ce ne avevamo, sì. E le melodie come facevate a farle? Ve le inventavate le melodie? Tutte le melodie mi hanno inventato così a orecchio perché io ho sempre suonato orecchio, ma io ho musica, musica non lo sapevo. Fino a quando hai salito sul campanile qua? Io? E ho fatto la vita dei militari. E fino a quando poi ha continuato a suonare o per quanto tempo? Fino a quando ho messo i lettri, quando l'avete messo i lettri? L'hanno tolto il lavoro con le campane le lettere. Sì, 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 sì. È perché non c'era più nessuno che ci voleva andare. Se no ci salirebbe ancora? Eh? Ci salirebbe ancora sul campanile? Sì, sì. Ha tolto le catene e dunque ci andavo senza altro per le feste io. Ah, sono sempre stato di quelli che per la chiesa... Io e il mio papà, la mia famiglia, ho oltre cent'anni che abbiamo servito la chiesa di Siona. Senza soldi, eh? Che lavoro faceva lei? Contadino. Lavorava qua i campi? Lavorato la terra. Cosa coltivava? Coltivava grano, grano turco, patate, fagioli e poi una vita a mangiare castagnaccio. C'erano tante castagne da questa parte? Eh, erano tutti castagne. L'hanno tagliato in tempo di guerra che ho cominciato a portare via legno, panino e quella roba. Altrimenti tutti castagne. Ci siamo vissuti noi di castagnaccio, eh? Io per trent'anni ho mangiato sempre castagnaccio perché la focaccia non mi piaceva. C'erano anche i mulini qua per... C'erano uno giù nel trago che è il suo, l'ultimo che ha macinato qua. Poi c'erano un altro vecchio lì che c'è ancora il murio adesso, quello da massetta, quello dell'adrino giù nel trago per andare a carro, da giga e quello dell'adrino su di nuovo più avanti. Poi c'erano uno sotto al pavretto, quello dell'adrino di un paganino di carro. Sei? C'erano castagne. Lo portavano anche a mazzinare a carro perché non c'erano più i mulini qua. C'erano uno nella valle di là. Come li portava? Sulle spalle. A piedi? A piedi, senza altro. Quelli che avevano un pezzo di mulo lavoravano con il mulo. I muli non ce li avevano, tutti sulla schiena. Ma qua quanti abitanti c'erano in quei tempi qua a zona? Mi ricordo io quanto ero un ragazzino da 130-140 abitanti. Adesso ci siamo una cinquantina. Una cinquantina residenti qua però alla messa la domenica ci siamo 5-6. E perché non suonano più bene le campane forse? Perché non credono più alla religione adesso? Una volta ci credevano adesso no. Erano famiglie numerose? Finito la guerra, subito finita la guerra, avevo intanto il 26-46, 44-45. Stavamo su, io e un mio cugino, personale della messa, la messa dei morti, perché facevano tutta la novena, al mese di ottobre, a novembre. Alle tre di notte andare a suonare le campane. Alle quattro cominciavano l'ufficio. C'erano tre o quattro signori di quegli anziani che leggevano tutto l'ufficio. Cantavano, non lo so se adesso lo sanno neanche. Le lezioni erano. Le cantavano. Poi diceva la messa, si usciva, che erano le 5-5 al quarto, due castagne bollite in un sacchetto, si andava a raccogliere le castagne, che erano ancora di notte. Qual era la festa che facevate qua in paese, la festa religiosa? La principale è quella della Madonna che era la prima domenica di luglio. Facevate anche la processione? Allora sì, adesso è arrivata in chiesa. Chi c'è da portarla? C'erano anche i crocifissi? C'erano i crocifissi e tutti gli apparati principali. Chi era il parco? Quegli abitanti di Gionna, i nostri vecchi, hanno lavorato per 40 anni continui. Con quelli di carro si sono litigati perché non volevano che diventasse parrocchia, che dipendesse da carro. È rimasta, fino a quando hanno cambiato l'ultimo parco che è andato via, parrocchia autonoma. C'era il mutilato che le mancava un braccio, andava a Chiavari a prendere l'olio santo, che lo facevano lì, mi sembra, per Pasqua, quello che davano ai morti, a cresima. Il mercoledì santo? Andava a prendere l'olio a Chiavari e si pagava la corriere, non dipendere dal vicariato di carro, penso che può. C'era un po' di campanilismo, ognuno nella sua parrocchia. Eh, come so. Chi era il vostro parroco? Quel parroco? Chi era il vostro parroco? Ne abbiamo cambiato una diecina, quegli anni lì che mi ricordo io, che stavamo sui preschi, l'unico che si andava d'accordo via, come parroco, era Don Sturla, era il giorno di Santa Giulia che è arrivato qua, proprio in quei mesi di finito la guerra subito. Lei ci sta bene qua, a zona? Ci sta bene? Io ci sto bene, ci sto volentieri. Il paese che ne sia di quelli che abiterai volentieri potrebbe essere Matarano, altri non cambierei con nessuno. Il signor Eddie Rebizzo è originario qua di Ziona, anche se poi, per vari motivi, per lavoro, ha sempre vissuto anche al di fuori di questo paese. Poi ci è tornato quanti anni fa? Praticamente una quindicina d'anni fa, perché? Perché sono andato a abitare nella casa dei noni, che è quella lì dove abito ancora adesso. E lì che attività hai iniziato a fare? Ho cominciato a fare i testi più o meno a 25 anni, anche se mio nonno mi aveva insegnato ancora prima, però lui era nato nel 1908 e praticamente fino ai primi anni 80 era ancora in attività. Faceva il moratore, però quella dei testi era una cosa che lui si era studiato negli anni della seconda guerra mondiale, più o meno, o forse anche prima, perché i testi venivano già fatti da praticamente tutte le famiglie per uso. Come si fanno? Con che materiale? Si fanno con l'argilla, con argilla di diverse qualità e mescolata con sabbia. La struttura, l'essenziale è quello. Poi ci sono diversi accorgimenti. E poi si cuociono dentro il forno? Si vuole una fornace, vanno asciugati una decina di giorni, finché l'acqua dell'impasto non evapora. Quando l'acqua è evaporata vanno passati nella fornace a legna, cotti a 700-800 gradi per 4-5 ore e a quel punto si possono utilizzare. Vengono utilizzati poi per fare i testaioi, i testaroli? Si fanno i testaroli, che però sono poco pratici perché ci vuole un'abilità non comune. Si può cuocere ogni tipo del maiale, che è la cosa più bella praticamente, le patate, a volte abbiamo cotto le acciughe, le focaccette di grano turco oppure il castagnaccio, che essendo una pasta va cotto con le foglie di castagna e tutto un procedimento particolare. Quando vengono utilizzati appunto per fare questi piatti, vengono poi messi dentro il forno, in mezzo alla braccia per cuocere? Vanno scaldati al calore rosso, più o meno sui 600-700 gradi, estratti dalle bracci. Quando hanno riacquistato il loro colore naturale dell'argilla si può mettere l'impasto. E si rimettono poi a cuocere? Certamente, praticamente si può cuocere qualunque cosa pur che non contenga liquidi, le verdure si possono cuocere, però dato che la struttura stessa, la porosità dell'argilla, è fortemente igroscopica, se a contatto con l'acqua esplodono. E' contento di essere tornato qua a Ziana? Ma in realtà non l'ho mai abbandonata e ho avuto i miei problemi di testa più che altro, problemi altri no, però a volte vivendo da un lato come adesso, la realtà della città solo fruendola, non vivendola a pieno. E dall'altro qua bisogna spostarsi sempre, insomma, io ci sto bene, però ho avuto i miei problemi, ecco. Alle mie spalle possiamo ripercorrere il viaggio di Paese Mio di questa puntata che ci ha portato a conoscere le frazioni di Castello, Pavareto e Ziona, dove ci troviamo in questo momento tutte nel comune di Carro, che è quello che possiamo vedere più esteso alle mie spalle. Il viaggio di Paese Mio torna la settimana prossima. Paese Mio torna la settimana. Paese Mio torna la settimana. Paese Mio torna la settimana.